Tantissimi auguri ai miei concittadini per il buon Natale e per un felicissimo anno nuovo. È un anno difficile quello che ci lasciamo alle spalle, difficile in particolare per i giovani che faticano a formarsi adeguatamente in una scuola in crisi, che faticano a trovare un lavoro che non sia un precariato a vita, che faticano a mantenere l'occupazione anche quando ce l'hanno, in particolare nei settori manifatturieri. La crisi ha pestato in modo particolarmente duro proprio in questo settore, nel settore industriale e manifatturiero, alla Sava, alla Sirma, alla Depoli, alla Montefibre, nel settore chimico, etc. Sappiamo benissimo, stiamo affrontando questa situazione di crisi con grande difficoltà e tuttavia qualche spiraglio che fa bene sperare c'è, esiste, in particolare per quanto riguarda il settore chimico. Detto questo, che è la cosa che mi sta più a cuore dire, perché anzitutto bisogna partire dalle difficoltà, credo che quest'anno noi nella nostra città possiamo chiudere un bilancio positivo. Abbiamo tenuto nel settore turistico, che è quello fondamentale della città, più di qualunque altra città d'arte italiana. La riduzione c'è stata, ma lievissima in particolare a Mestre e a Lido, complessivamente una flessione molto lieve, mentre il centro storico continua a tenere. Abbiamo avviato alcune iniziative che sono fondamentali anche per l'economia turistica della città e per l'economia tucur, perché l'apertura di tre grandi fondazioni internazionali è una risorsa fondamentale per la città. Mi riferisco appunto a Della Dogana, alla Fondazione Vedova, alla Fondazione Brù, ma anche al restauro e al rinnovo dei nostri musei civici, con l'apertura di nuovi spazi, ma anche alla Biennale. Hanno record quello della Biennale, prima mostra visitati in Italia quest'anno, quasi 400 mila visitatori, record assoluto di visitatori e di incassi, in un anno di crisi. Quindi in controtendenza totale rispetto al trend nazionale. Questo vuole dire che si è lavorato bene, voglio sperare che questo venga ammesso e riconosciuto. Si è lavorato bene e facendo sistema, facendo gruppo tra fondazioni musei, primo anno di vita positivo, Biennale, Fondazione Pinot, Fondazione Guggenheim, etc., finalmente un sistema di offerta culturale fondamentale per l'economia turistica. Così a Mestre, e il Mestre è un grande cantiere che si è aperto in questi anni, in questi ultimi anni, negli anni del mio mandato, cioè del mio ultimo mandato, via Torino con l'università e la riqualificazione di quell'area, l'ex Umberto I, cantieri che tutti possono vedere e che tra due o tre anni saranno finalmente completati, l'ampliamento del Vega. Direi che le cose che mi preme di più sottolineare in quest'ultimo anno sono i due grandi progetti che si sono avviati concretamente. Il grande progetto del Lido, che riguarda il recupero dell'area dell'ex ospedale Almare, il Forti di Malamocco, il restauro e il rinnovo di tutta l'offerta ricettiva, e il quadrante tessera. Non si tratta più di idee, si tratta di progetti definiti, approvati in tutte le sedi e immediatamente cantierabili, che verranno cantierati nel giro del prossimo anno. Sono due grandi progetti per centinaia e centinaia di milioni di Euro, ciascuno, che daranno occupazione, che daranno occupazione nella fase del lavoro e che daranno molta occupazione una volta terminati. Si tratta di centri direzionali, di centri residenziali, di centri alberghieri ricettivi, si tratta di grandi centri sportivi, in particolare al quadrante tessera. E chissà che questa straordinaria offerta che noi siamo in grado di proporre al Paese non ci consenta anche di ottenere la candidatura ai Giochi Olimpici. Questa è una speranza che tutta la città deve formulare con forza, sentendosi pronta, matura per una sfida di questa altezza internazionale. Siamo una metropoli, siamo una metropoli anche con Padova e Treviso certamente e siamo una candidatura seria a organizzare un evento di questo rilievo, il più grande che c'è al mondo, perché l'Olimpia è stato il più grande evento che esista sulla faccia della Terra. I problemi ci sono, ma credo che anche i problemi della sicurezza. Proprio oggi ho fermato un contratto con il governo che ci dà 2 milioni di Euro per migliorare i sistemi di sicurezza, dei sistemi di controllo audiovisivo sul territorio, i problemi della sicurezza, il problema del traffico acqueo, certo ci sono, siamo lungi dall'essere all'ottimo, però i passi avanti obiettivamente sono, credo, di fronte agli occhi di tutti, anche su queste questioni che riguardano la tutela e il decoro della città. Io credo che sia un bilancio positivo, che la città abbia dimostrato di affrontare le crisi meglio di altri territori, spero che il 2010 migliori tutti questi risultati e spero che soprattutto noi tutti veneziani, veneziani e mestrini, mestrini e veneziani insieme, ci si renda conto delle chance che ha questo nostro territorio e invece di, come spesso avviene, semplicemente guardare il quarto di bicchiere vuoto, si guardi ai tre quarti pieno o meglio a come potrebbe essere facilmente tutto pieno se si lavora tutti insieme con l'impegno, con la responsabilità, con la competenza che finora molti, molti hanno dimostrato in tutte le categorie.